Salute, salute a tutti e bentrovati all'appuntamento con il meteo per giovedì 15 settembre, con campi di relativa alta pressione ancora sul Mediterraneo centro orientale, dove il tempo si manterrà stabile e soleggiato, anche sull'Italia bel tempo con infiltrazioni d'aria umida da ovest che determineranno un po' di nuvolosità in prossimità dei rilievi. Ecco la grafica che ci mostra annuvolamenti irregolari ma con prevalenza di nubi stratificate sulle Alpi occidentali fin verso le vicine pianure pedemontane del Piemonte. Ancora qualche annuvolamento sull'Appennino tra basse marche, Abruzzo e Lazio interno, dove si potranno innescare piovaschi o brevi rovesci nelle ore centrali della giornata. Vedete per il resto i cieli sereni salvo velature tra Lombardia, Appennino e Emiliano, Liguria ed Alta Toscana e ancora tra Puglia, Appennino Campano e quello Lucano e comunque qualche annuvolamento potrà interessare anche le zone interne sarde. Per il resto sereno, con venti settentrionali lungo l'Adriatico e l'Oionio, con qualche rinforzo sui settori meridionali, dove i mari resteranno da poco mossi a mossi. Quasi calmi tutti i bacini ad ovest con venti deboli variabili. Le temperature minime della notte ancora superiori alla media ovunque, fin oltre ai 20 gradi sui settori adriatici in Valpadana e tra le due isole maggiori. Le massime fin oltre ai 32 gradi nelle zone di Valpadana centro-orientale, ancora sul Lazio interno e su buona parte delle pianure interne del sud e della Sicilia. Ancora quindi caldo con tempo estivo fin verso oltre metà mese. Un saluto a voi da Andrea Falcinelli, ai prossimi aggiornamenti meteo. Grazie a tutti.